Eccoci qua, seconda parte dell'incontro con Carmine Di Giandomenico, diamo il benvenuto anche alla professoressa Morgantinne che si è collegata poco fa. Allora Carmine, proseguiamo il nostro incontro e già alla fine del primo ti avevo accennato delle cose che volevo vedere con te e quindi ti lascio una parola. Allora, passiamo sul lato un po' più dei vari step di quello che succede con la rivelazione in Aldo Fumetti. Prima di tutto c'è lo sceneggiatore che ha l'intenzione della storia e quindi inizia a scrivere la storia. Come si scrive una storia a fumetti? La storia a fumetti non è un romanzo, non è un racconto, non è una poesia, quindi è un linguaggio, una stesura di scrittura a step che è molto vicino a quella cinematografica, a quella del teatro, tipo scena 1, scena 2, scena 3, scena 4. C'è chi descrivono le varie vignette che ci sono all'interno. Per fare lo sceneggiatore ovviamente la cosa più importante è che bisogna conoscere perfettamente i codici di linguaggio del disegnatore che sono identici, in gran parte, molti, a quelli del teatro e quelli del cinema, tipo piano americano, primissimo piano, quinta, ok? Ci siamo? E in più, una volta descritta la scena nel dettaglio, vi è l'inserimento dei balloni, dei testi, dei dialoghi che il personaggio o il personaggio dà o il monologo nella Biasca Cosa accade? Perché devono essere insegnati anche i dialoghi di Biasca? Perché è importante per il disegnatore capire l'ingombro che ha, diciamo, il testo all'interno della pagina, che anche lì è importante equilibrare la pagina, come abbiamo visto all'inizio, nella prima parte, il bilanciamento, la stesura della narrazione all'interno della pagina, ma anche i dialoghi vanno studiati in merito alla loro funzionalità, per esempio il primo pallone sempre in alto a sinistra, scusate se ho difficoltato a dire sinistra a destra, essendo mancino mi viene a dire a destra pensando che sia invece la mia sinistra, però, ok, quindi in alto a sinistra e poi in basso a destra, per facilitare la lettura. Una volta che si ha, diciamo, la sceneggiatura completa, c'è un'operazione di editing e dell'edito, dove viene data a noi che siamo i disegnatori, che sono, diciamo, i penultimi, diciamo, che hanno in mano questa stesura, perché l'ultimo sarà il colorista, nella fase realizzativa grafica, e da lì, dopo un'ampia lettura, si passano agli storyboards. Allora, vi faccio vedere una cosa che sto facendo io, Allora, quindi, partiamo con lo schermo, con i libri, ok, andiamo sui documenti, questo è un progetto che sto sviluppando, il mio progetto, quindi, mi incappiamo cose di copyright, diciamo, pubbliche, i personaggi che non ci appartengono. Allora, c'è prima di tutto la stesura, io ho una storia, me la scrivo, me la appunto, poi, essendo disegnatore, giustamente, cosa faccio? me la vado a fare, i layout, gli storyboards, io di solito abbozzo su delle vecchie agendine, quindi penso che lo potete fare anche voi, tranquillamente, a casa, su dei fogli spassi, e li piegate, in maniera da avere davanti a voi la fogliazione, no? Per tornare ai termini di tipografia, e da lì iniziate a impostare il tutto su come volete raccontare la vostra storia. Vedete, sono dei segni molto blandi, cioè molto veloci, vedete, ci sono anche le indicazioni di testo, no? Di cosa dicono i personaggi, per capire, no? Vedete qui, adesso si è l'epoca, perché la risoluzione è molto bassa, perché c'è per me che, conoscendo la storia, so che riesco a riconoscere quello che faccio. Però che succede? Che mi do delle indicazioni anche dove dovrebbero andare i testi, in maniera che riesco a bilanciare l'immagine e capire come inquadrare se il volto lo devo ridurre o allargare il campo per dare più spazi anche al testo. E c'è questa prima fase di stesura, vedete? Con tutti questi schizi. Dopodiché, cosa accade? si passa alla realizzazione della tavola, che sono a colori. Però adesso ne apro qualcuna, credo questa qui che è in lavorazione. si parte alla realizzazione della pagina. si parte con la realizzazione del disegno in bianco e nero, ovviamente, dove si fa prima una bozza molto leggera sotto per avere gli ingombi e tutto. Dopodiché, da qui, fatta l'intestuzione arrivata, diciamo, a quello che vogliamo ottenere, c'è la fase di inserimento. Ad esempio, dai c'è i tatuaggi, quindi ho fatto una texture dei tatuaggi del personaggio, ma per poterli sovrapporre, regolare, a seconda dell'intensità che vuole dare sulle luci. Dopodiché, cambiamo, rispetto a questo livello. Ecco qua, la sezione ombre, comincia a mettere, come se, come se laurassi in bianco e nero, Anche se uso una pinta unica, tipo un seppia, mischiata un blu, eccetera, metto l'intensità delle luci per incrementare l'intensità dei personaggi, O se sta in penombra, dopodiché, aggiungo, questa è una lineetta che è la mia altra tavola, no? Aperita. Apersi livelli. Un attimo da privo. Un attimo. Ok, dopodiché inizio a mettere la FAT su, per dirti il carnato, dei personaggi, vedete? Io lavoro mettendoli normale, con un'opacità molto bassa. Perché? Perché di solito uso inserire sotto un filtro di un foglio bruciato. In questo caso, utilizzo questo foglio bruciato perché l'intenzione che voglio dare è un'atmosfera quasi arida, C'è di colori caldi, sabbiosi, perché la storia comunque parlerà di questa cosa un po' in un po' particolare. In maniera che mi integra tutti i soggetti con una luce con una luce unica in maniera da avere questa sorta di bilanciamento e di integrazione del tratto diciamo stilizzato con il colore si iniziano a omogeneizzare con tutta la pagina e da lì poi piano piano si incomincia a lavorarla in una chiave più più forte con arrivare a una spesura più con il colore definitivo con tutti gli effetti luce a parte che poi verrà unito e poi separa i due momenti a seconda di quello che tu vuoi raccontare con gli traumatismi perché anche il colore nel fumetto ha la sua valenza non è solo il disegno ma anche il colore perché a seconda del colore riesce a dare delle tonalità delle sensazioni delle interpretazioni molto importanti al lettore che possa seguire la storia in maniera più intensa cioè più coinvolgente per dirti in questo caso in questa storia che sto realizzando si sviluppa in due fasce temporali completamente diverse quindi nel passato ci sono delle tinte e nel presente che vedete ai due lati le tinte più calde mentre quelle più fredde notturna nel passato vedete stanno al centro quando vi dicevo che poi ogni storia ha il suo modo di essere raccontata è basata anche sul fatto delle scelte gratiche che si vogliono ottenere io questa storia essendo una storia inventata di Nuova Zelanda con gli spazi ho cercato di dare una struttura più orizzontale perché mi permetteva di dare più spazio ad alcune scene naturalistiche diciamo così un po' da National Geographic che sto diciamo un po' esagerando il termine anche nel passato di termine in una scelta geografica però per avere questo campo largo in maniera da poter ampio respiro al lettore fargli vivere degli spazi aperti vedete quindi c'è tutta questa curiosità in più volevo dare anche un'impostazione cioè voglio dare questa impostazione quasi da CinemaScope nel senso che siccome la storia è divisa sui due binari cosa ho scelto narrativamente parlando di fare la sezione del presente sempre in questi due tagli orizzontali che vedete in alto e in basso in chiusura mentre il passato è chiuso sempre nella fascia centrale che qui si seppia in maniera da queste due fasce vignette orizzontali lunghe equivalgono al nero che tu vedi al cinema che circoscrive le immagini della storia perché nella parte del presente verrà raccontata diciamo soltanto una parte di una semplice caccia quindi non ci sono enormissimi dialoghi è quasi completamente nuta quindi che cosa fa questo elemento colorato equivale a quel nero decimascope perché la storia è centrata al centro come al cinema quindi con una sezione di seppia al suo centro vedete con questa tonalità e questa sequenzialità temporale vedete la scansione del tempo del ritmo e dei vari elementi che voglio dettare con il racconto si partono con i dettagli sopra e sotto che ti danno l'attesa e la quiete prima di scattare in una corsa che si vedrà dopo mentre nella parte centrale con questo set invece ci sono i dialoghi cioè nella storia che si sviluppa che ti raccontano in questa cosa e c'è il linguaggio cinematografico appunto perché parlo sempre del linguaggio cinematografico perché comunque il fumetto è il fratello gemello separato dalla nascita dello stesso linguaggio quindi tendenzialmente il disegnatore dei fumetti deve avere un bagaglio memonico ma anche un archivio suo o al caso tipo una biblioteca da dove attingere cioè perché comunque il modo di raccontare è molto similare quindi avendo questo bagaglio e avendo queste diciamo reference ti permette anche di giocare e trovare degli schemi narrativi che più ti appartengono o che appartengono alla storia che devi raccontare come quando abbiamo parlato prima di magnetotestamento della scelta dei riguardi più rigidi qui ci sono dei riguardi sempre classici quadrati non di sovrapposizione non è potete ben vedere non è quel stile di dinonismo all'americana ma hanno uno stile di narrazione più fluide è normale tendenzialmente ma questo giocando con due passaggi temporali orizzontali dove sotto mi permette di dare una struttura completamente passatevi in termine non originale ma inusuale per il mercato italiano vedete quindi c'è tutta questa sequenza quindi inizia la corsa la caccia e si gioca molto anche soprattutto con gli attacchi gioco molto con gli attacchi per tra virgolette passati in termine cinematograficamente per analogia che cosa significa che gioco con la presentazione di questa strana creatura che vedete in ortomo che ancora non si vede bene il volto che appare nel passato in un volto nella parte esempio nello stesso momento in cui si vede nel presente questo attacco così grafico si attacca non è proprio analogicamente perfetto perché l'analogia vuol dire la sovrapposizione della stessa immagine in dissolvenza o che stanno nella stessa inquadratura in questo caso non stanno nella stessa inquadratura perché e vi spiego tecnicamente perché è un attacco in analogia temporale narrativamente ma graficamente non lo è perché l'ultima vignetta il personaggio che si vede si è involto nella penultima vignetta come vedete è proiettato verso destra perché mi deve portare alla fogliazione della pagina successiva mentre qui in realtà c'è un attacco per l'analogia con il primo volto e l'ultimo volto perché questa guerriera diciamo maori che si trova nell'ultima minietta si capisce questa è la tavola rivelatrice e si capisce che la bambina che sta eseguendo nel passato si trova con la stessa inquadratura però con due espressioni completamente diverse una degli attacchi di un'analogia più famosi della storia del cinema per dire che è quella più vicina a voi non perché voglio fare questa sempre differenza di età però insomma più facile che può essere la rivista in televisione e si trova nel film di Highlander interpretato da Christopher Lambert dove c'è la scena di una guardiatura di New York dove c'è un murales della la camera stringe su una monna lisa e in dissolvenza appare il volto Christopher Lambert che si trova in Scozia nel passato quindi bisogna anche studiare molto studiare tra virgolette guardare capire passi le domande oltre che a leggere ovviamente libri che parlano nel linguaggio del cinema guardarli soprattutto perché poi c'è qualcosa che nei libri purtroppo oltre al lato tecnico non viene mai espresso che è l'intuizione narrativa perché poi è quello che fa la differenza del del regista bravo cioè l'intuizione è quello che sa usare capito per dirvi per voi prima avete citato Matrix come grande rivoluzione della narrazione visiva del cinema ma Matrix se andate a spucciarlo bene in realtà adotta semplicemente delle come si dice delle tecniche che venivano utilizzate nei videoclip musicali degli anni 70 cioè erano effetti comunque degli anni 70 cioè che per voi sembrano assurdi quei movimenti con le polpocamere che il fotografo che hanno lì mentre si abbassa per schivare la pallottola la camera di giro a 360 gradi si facevano già negli anni 70 anni dei videoclip delle rockstar americane cioè quindi delle volte andare a depredare il passato vi aiuta a raccontare meglio il vostro presente quindi questa è una cosa poi un'oltre che sta da parte questa stesura diciamo si passerà al letterista per esempio negli Stati Uniti funziona così mentre in Italia il disegnatore deve pensare anche all'ingombro del balloon deve disegnare anche il balloon lo deve disegnare fisicamente sulla tavola in America no in America i balloon vengono cambiati inseriti dopo questo perché adottano un linguaggio che anche qui negli Stati Uniti rispetto all'Italia una tecnica molto vicina sia al teatro che al cinema nel senso che io non so quanti di voi conoscono Al Pacino lo conoscete? ok allora perfetto vi consiglio di trovare o di affittare o trovare un DVD di lato fate quello che ti pare col discreto come c'è possibile di questo pianeta rapite quello che vi pare il Riccardo III di Al Pacino non perché è un film stratosferico ma in realtà è un documentario io ho voluto fare questo documentario di come lui ha sviluppato il Riccardo III e spiega come si lavora in teatro ma che c'entra il teatro con il fumetto invece c'entra tantissimi c'entra come il cinema perché comunque sul teatro tu hai delle battute hai dei personaggi che si devono muovere teoricamente è una vignetta disegnata all'interno di uno spazio quadrato che è il palco la scena cambia quindi nella stessa maniera lui spiega come si lavora nella sceneggiatura nella sceneggiatura in America succede che anche nei film dopo la prima stesura e mentre stanno lavorando il film si continua a cambiare la sceneggiatura la sceneggiatura non viene blindata come se fosse un dogma o un decimo comandamento che non puoi cambiare ma cambia a seconda di come viene rinterpretata o riformulata sulla scena quindi la stessa cosa in America la fanno sui fumetti se un personaggio spara una battuta XY se il disegnatore fa un'espressione più grottesca o un'inquadratura che è più funzionale rispetto a quella che era descritta dalla sceneggiatura americana che succede? lo sceneggiatore non è che dice al disegnatore no devi disegnare quella vignetta perché l'espressione non è come quello che dice nel testo no e lo sceneggiatore diventa collaboratore del disegnatore e cambia il testo per migliorare la forza del dialogo della scena che vuole raccontare a seconda del disegno che ha fatto il disegnatore in quel momento perciò i balloni in America vengono inseriti dopo quindi c'è una massima piena libertà completamente differente rispetto al mondo diciamo al modo di fare in Italia in Italia invece c'è lo sceneggiatore che impone i tempi ma questo che vuol dire che in Italia c'è dittatura e in America c'è piena libertà no ci sono due modi di tempistica completamente diversi nel senso che il fumetto mainstream americano è molto più accelerato sia nelle uscite sia nei dinamismi di produzione quindi questo che cosa vuol dire che per dirti se io sto disegnando il numero uno di Spider-Man nel momento in cui mi trovo a disegnare metà del numero due in America già in edicola il numero uno quindi io 15-20 giorni per disegnare produrre quella macchina quel costrutto che dovrò avere in mano quindi cosa succede che gli americani danno piena libertà al disegnatore il disegnatore è il regista della pagina quindi se non sai raccontare ti trovi in difficoltà in Italia questo non avviene perché i tempi sono più dilatati hai otto mesi che tendenzialmente per fare un albombone tra i sei e gli otto mesi queste sono 90 pagine però non ve li porto sono 90 cosa accade però che da una parte lo scrittore italiano è più preparato rispetto allo sceneggiatore americano dei fumetti perché la sceneggiatura americana è quasi una bozza che come vi ho detto prima c'è una lavorazione molto similare a quella del cinema del teatro che è un work in progress continuo fino a quando non si arriva in stampa alla deadline quindi lo sceneggiatore collabora fino alla fine del libro in Italia invece lo sceneggiatore conoscendo le distanze tecniche del disegnatore e del mezzo fumetto una volta che ha scritto la sceneggiatura in maniera perfetta e redatta insieme al redattore bam è quella e il disegnatore lì non ha svincoli di interpretazione ok se ti dicono macchina del 1941 adesso è la macchina del 1941 non è che su spider per esempio facciamo un esempio più semplice tex ok c'è l'iconografia di tex tex ha sempre il stesso volto ma il canone del volto c'è il character design cioè può cambiare un po' il tratto la pennellata che è lo stile del disegnatore ma i tratti somatici sono quelli se voi vi fate una sfogliata una carrellata su internet e scrivete Peter Parker riusciranno 8 milioni di volti diversi di Peter Parker questo perché lasciano piena di libertà interpretazione al disegnatore in america mentre in Italia devi dare rassicurazione all'utente finale che è il lettore il lettore deve essere coccolato e rassicurato a quelli di ex non può essere un'altra persona però scusi se interrompo anche con Dylan Dog invece cioè Dylan Dog anche ho visto che ha avuto diversi disegnatori e nonostante comunque il look che rimane sempre lo stesso ovviamente però il viso cambia allora il viso è cambiato perché ti spiego subito perché poi subentra anche una questione tecnica che a parte interpretativa ma il volto di Dylan Dog nel tempo è cambiato perché Rupert Evelet non ha dato l'autorizzazione allo sfruttamento di immagini che è basato sul volto di Rupert Evelet tant'è che i primi numeri erano disegnati come il volto di Rupert Evelet poi quando Rupert Evelet fu invitato in Italia proprio in Piero Bonelli e dire che c'è il personaggio col suo volto ovviamente si bello carino però faccio intuire che la cosa non è che senza autorizzazione tu puoi mettere la mia faccia come te pare mentre Robert Mitchell non è che può protestare perché non c'è più Robert Mitchell e quindi Robert Mitchell è Tex quindi voglio dire ci sono in tante che in Nasus se ci fai caso nel tempo i disegnatori lo hanno presso sempre meno acolino rispetto a quello di Rupert Evelet tant'è che poi anche lo stesso Claudio Villa ha iniziato a sboganare e dando anche una rivelazione che c'è anche Claudio Baglioni dentro al volto di Rupert Evelet quindi c'è c'è un mix nel character design mentre Zuppi di Attacca invece se vai a vedere Caterina c'è proprio infatti Carmine scusate ti interrompo un attimo facevo notare tempo fa ai ragazzi come Ken Parker sia Robert Atford esatto è Robert Atford è Robert Atford quindi spesso si guarda a personaggi importanti del cinema ma questo non è un errore nel senso basarsi su un volto di Jesse Stein perché se tu vedi il protagonista un character design che ti affascina è giusto che tu lo faccia attenzione ovviamente con le dovute ovviamente se devo fare un fumetto che esce negli Stati Uniti in Francia in Germania in Spagna in Ungheria che per dirti una produzione massiva come quella degli Stati Uniti ovviamente scattano dei codici copyright che dicono senti questa fa i soldini c'è la faccia mia e a quando il fenomeno resta circoscritto diciamo in una nazione piccola diciamo che lo manco te stanno a guardare però tendenzialmente non si dovrebbe fare cioè tendenzialmente puoi prendere il character design dei lineamenti che lo ricordino che lo ricordino ovviamente di un attore di un personaggio che ti piace e di interpretarlo anche a modo tuo però nello stesso momento poi c'è devi distaccarti che se no rischi veramente di decattare la denuncia e tu dici come si è me sta a disegna tranquillo cioè invece no e dici sì per la faccia è mia quindi io per esempio quando disegno ci ficco degli amici ci ficco dei colleghi capito mi ci diverso così ma cioè in maniera goliantica e vacanziera diciamo così in alcuni contesti però quando mi riguarda i personaggi di character design quando mi mandano i materiali per gli Stati Uniti cerco di di fare veramente un volto più asettico tant'è che se tu ci fai caso i disegnatori americani hanno uno standard del volto sia maschile che femminile cioè non hanno una caratterizzazione fotografica come viene richiesta in Europa appunto per non incappare in questi diritti perché tu pensate questa cosa che è assurda che è capitata Stefano Caselli disegnatore di Spider-Man grandissimo amico grandissimo autore che spero possiate conoscerlo perché spulciate tutta la sua roba che è bravissimo lui è stato disegnatore di Spider-Man pur richiamato dall'editor perché lui disegnava il costume di Spider-Man e faceva le pieghe del vestito che si vedeva che Peter Parker metteva addosso una tuttina di solito Spider-Man disegnata che vedete che i superiori hanno questi tuttini che sono tutti iperaderenti come se fossero dei scorticati umani e lui faceva le pieghe e a un certo punto aveva fatto un effetto sugli occhi a lente di Spider-Man a rilievo leggermente a rilievo chiama l'editor e gli fa guarda se toglie un po' sti effetti e fa meno pieghe possibile sul vestito e fa perché perché ci hanno chiamato il dipartimento della Sony che rischia ma la denuncia per plagio e tanto il peggio di cosa del loro Spider-Man ma scusi Spider-Man non è vostro ha detto sì quello dei fumetti ma quello del cinema c'era la Sony se tu disegni lo Spider-Man che è molto vicino a quello della Sony per camma la denuncia noi che stiamo Spider-Man del fumetto che vi do con l'assurdità in America ma posso che una formata sempre inerente al cinema il fumetto cioè ho visto che è sempre anzi nel cinema giapponese i fumetti vengono presi esattamente come sono come storyboard esattamente cioè sia la scenografia dietro e se le espressioni del fumetto è nato dopo in Giappone prima è nata l'animazione in Giappone se tu pensi Gundam hai presente Gundam il robotone Peter Ray non so se lo avete presente tutti quanti ok il fumetto di Gundam la prima storia di Gundam è stata disegnata dopo il cartone animato perché è nato come lungometraggio animato loro ragionano per animazioni il fumetto poi è successivamente arrivato dopo e l'hanno utilizzato come elemento di storyboard come hai detto tu perfettamente Caterina come uno storyboard di un'animazione tanto è che lì escono i fumetti al di là delle classiche brochure normali che troviamo in Europa ma loro hanno nelle metro e nei bar voi siete troppo giovani una volta quando c'era la cabina telefonica della SIF attuale Telecom c'era anche se andavano le cabine telefoniche a gettoni non è che c'era solo la cabina ma c'era anche un librone con della carta una pessima con tutti i numeri di telefono della provincia e tutti quanti da sfogliare ok loro hanno questi blocchi con questi fogli carta povera però separata per colore tipo carta gialla carta rosa carta nera che distingue i vari generi di estro che ne so storia d'amore storia gialla storia horror storia splatter ser rossa e loro stando alla metro iniziano a leggere alla fine di questi blocchi che stanno lì nelle sale d'attesa c'è sempre un indirizzo all'epoca si faceva per posta o per chiamare oggi c'è in internet quindi si fa tutto tramite un click loro mandano le loro preferenze e la casa di dice che crea quel blocco di vari pacchetti di storie passa all'animazione della serie che ha avuto più successo che è stata seguita e letta di più quindi diventa un'anime cioè usano il fumetto come una preview è come una Snyder Cut di Justice League con 12 trailers e tu dici alla fine faccio il film quindi capito? partono proprio così in questa concezione poi loro comunque sono eccezionali perché hanno un modo di raccontare che io adoro e vi consiglio l'uomo che cammina che passano le storie mute completamente mute alle storie logorroiche ma mentre fanno sceniglotta parlano di filosofia parlano cioè il rapporto nella natura il consiglio Ghost in the Shell per dirti Ghost in the Shell 2 il film pure il contrasto tra le differenze tra la Cina e il Giappone anche a livello culturale cioè è tipo una guerra fredda tra i due paesi di quelle volte quindi in Ghost in the Shell 2 nel film è evidentissimo perché il nemico sono questi bambole cinesi che poi è molto filosofico cioè ci mettono il buddismo tanta roba il fumetto in roba veramente tanta roba anche il robot dei primi cartoni animati della fine degli anni 70 avevano la cultura del samurai avevano anche i movimenti del samurai avevano esatto ma anche iconograficamente Goldrick è un'armatura giapponese del samurai la stessa mazzina è un'armatura samurai sì in più le corna e la postura all'interno del disco rappresenta il loro drago la loro unità del drago è certo che è uno dei cinque animali fantastici della tant'è che ci sono delle delle città che hanno fatto i palazzi a un certo punto credo in Cina non in Giappone in Cina che è il drago molto più cinese sì perché è uno dei cinque animali fantastici dei cinque elementi della cultura arrivati a un piano d'altezza facendo un foro facendo un buco perché dicono che nella loro religione in quel punto la notte passa il drago lo spirito del drago che non può essere bloccato dal palazzo quindi hanno fatto il buco ai palazzi perché loro possono lasciare spazio vabbè queste sono aneddoti un po' carmine ti volevo fare una domanda se mi permetti prima parlavi del personaggio e quindi rapporto sempre con le facce un famoso nel cinema abbiamo citato diverse e via dicendo e parli quindi prima ancora parlavi della foliazione della foliazione e dell'impaginazione e dell'anatomia del personaggio la mia domanda è questa per tenere il personaggio perché uno dei grossi problemi che i giovani disegnatori hanno è tenere il personaggio tanto è vero quando vedi dei disegnatori inesperti anche in bonelli vedi che tendono a perderlo un po' il personaggio durante la foliazione e tu personalmente utilizza le tecniche tipo che so mettere un ciuffo particolare ad esempio che so Fry di Futurama lo riconosci sempre perché ha questo ciuffo arancione faccio uno spoiler subito faccio sto spoiler una maniera per far capire ai ragazzi che poi un personaggio va tenuto in un albo di 50-60 pagine ti faccio vedere subito subito faccio vedere una cosa a cui sto lavorando adesso io ho preso come riferimento lui magari spiegaci anche perché scegli un certo tipo di soma cioè un certo tipo di forma proprio della faccia su Bruce Wayne da giovane allora ho trovato questo attore che piace molto ai giovani di oggi della serie di una serie televisiva di Cantropi che mi ha affascinato molto perché aveva questa faccia particolare che è un po' storta vedi però è molto merito a questo momento questo suffo no però questa è una documentazione storica vedi quindi che ho fatto quando mi hanno proposto di fare questa storia la prima cosa che ho fatto è cercare di capire che tipo di ricerca del volto volessi affrontare no quindi mi sono scaricato tutti i volti del personaggio non più possibile per cercare di capire che tipo di conformità avesse il volto vedi vedi che c'è questa specie di mento un po' molto americano no con il mentone un po' pronunciato però allo stesso tempo questo sguardo un po' triste dell'adolescente triste passatevi termine triste però credo sempre un po' alla ricerca no di se stesso scoglio di disegnare un Bruce Wayne un Bruce Wayne non so un Bruce Wayne diciamo che andava crescendo nel suo percorso della storia perché nella storia ci saranno vari step cercato di mantenere quella smorfi e quel mento e soprattutto quel ciuffo da teenager che vedete qui che sta nelle foto che lo rende molto più vicino ai ragazzi di oggi fino ad arrivare a un voto un po' più da uomo d'affari che è Bruce Wayne intorno ai 27 28 anni qui è il momento in cui vada la Zagul la prima volta perché sarà una storia che non parlerà di Batman con il costume ma sarà la prima storia dedicata solo a Bruce Wayne questa è stata la prima stesura del volto ovviamente non è che potessi fare il volto dell'attore perfettamente identico se no sarei andato a incappare in quelle diciamo restrizioni no e da qui ho iniziato a modificarlo cercando di mantenere di aumentare un po' di più la mascella perché il supereroe ha sempre questa iconografia di questo mascellone nuovo grosso no stile per Affleck no per capirci quindi ho cercato di mantenere un po' il look poi qui ci stanno delle indicazioni che ho voluto dare che però il colorista vabbè poi fanno come gli pare a loro però dove per esempio la bambino lui è più ha una carne più chiara tendenzialmente rispetto a quando arriverà ai 29 anni più carginevole no c'è più malaticcia anche con un po' di cuperose no che poi pian piano crescendo si panisce dopo di che si passa le tavole si passa le pagine dove vedete già da qui mi inizio a discostare avvicinando di più a Bruce Wayne del fumetto però mantenendo capito delineamenti più europei qui quando lui è piccolo diciamo tra gli 8 e i 10 anni vedete cerco di ammorbidirlo nella stesura con altre idee altre invece di storici vedete però qua vedete qua cerco di far ritorno all'attore un po' di più se fate caso vedete per dare quell'iconografia più vicina al caratter design mi sono studiato anche delle cose che io chiamo aster eggs che siccome è una storia che parla di batman ma batman non c'è iconografia di batman allora quindi sono preso la libertà e devo dire che non me l'hanno censurata fortuna per esempio da questa sequenza ho deciso di iniziare ad inserire di aster eggs nel senso noi sappiamo che questo personaggio in futuro diventerà batman che si coprirà il volto e si vestirà da pipistrello perfetto in questa sequenza dove non vi faccio troppo spoiler sui dialoghi c'è comunque Bruce che piano piano si inizia a inalberare per quello che vi sta dicendo questo personaggio se guardate attentamente per dirvi le ciglia la piega della fonte nella posizione c'è il batti segnale il simbolo non so se si riesce a contendere qui sì 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 per esempio anche nella prima pagina nella prima pagina della storia c'è anche lì un altro aster eggs dove l'ombra dell'ombrello proiettata sulla struttura del palazzo crea le ali nella testa del simbolo di Batman cioè quindi Batman hanno cercato di inserirlo e questa è stata una cosa che poi lo sceneggiatore ha provato perché non è che il disegnatore è soltanto una macchina ricordatevi questo il disegnatore di fumetti c'è poi una scelta personale di chi vuole mettere diciamo in gioco o meno però siete parte integrante di un progetto quindi tutte le migliorie che voi pensate che possano migliorare una trama nella sua narrazione dovete esplicarle cioè dovete dirle perché voi non siete la parte semplicemente pratica del disegno ma siete parte narrativa voi dovete intrattenere questa carriera dovete capire che siete prima di tutto narratori voi siete dei scrittori di immagini perciò io quando dico che il frumetto è la datilografia del tempo perché voi siete scrittori perché il vostro disegno è il vostro appaveto quindi se riuscite a raccontarla meglio e dare degli input maggiori parlate con i sceneggiatori parlatene con l'edito chi vi sta seguendo spiegatelo perché fate un consiglio che vi do fate sia la stesura che chiede allo sceneggiatore standard ma allo stesso tempo se riuscite date anche una vostra proposta in maniera da mettere in discussione anche cosa funziona meglio perché non è detto che lo sceneggiatore crei il dogma in assoluto per dirvi per esempio poi questa cosa di picistrello ritorna qui c'è per esempio il movimento Igor Cassina che ho dovuto citare un campione olimpico dove c'era scritta una sceneggiatura Bruce Wayne volteggia eh come volteggia Bruce Wayne vuoi sai io lo conosco tu lo conosci io no quindi ho detto ok sai che ci faccio Igor Cassina e ho fatto il movimento Igor Cassina vabbè queste sottiche autoreferenziali che lasciano appunto un belicoppe però così giotacriscono però capito c'è c'è tutto un'integrazione pure qua quest'ombra che ritorna che sembra la la di più di strelle qui in alto c'è un'inquadratura del secondo episodio per esempio qui c'è una strex che è nell'ultima lignetta dove ho scelto di fare questo inquadratore in silhouette nera quindi come se fosse una quinta graficamente dove tu vedi saltare Bruce inquadrato dal basso però le luci la luna e il cielo formano il simbolo del tipistrello del petto di Batman quindi dovete imparare anche a trovare il lato divertente io quando io ho la fortuna di insegnare all'accademia nel fumetto di Pescara che è una scuola privata ai ragazzi dico sempre pensare quando state a disegnare una storia qualunque questa sia di genere o di altro pensate di giocare con il ego divertitevi a fare la vostra costruzione e a mettere quegli elementi in più che vi possano aiutare a rafforzare maggiormente l'idea per esempio qui c'è tra questa pagina per dirvi e questa pagina c'è una mia scelta narrativa che lo scienziato ci ha scritto vediamo Bruce che arriva di fronte a un palazzo e vede un masagomo entrare all'interno della finestra che sarebbe questo vignettone grande qui poi leggi tutto il resto di quello che succede la zuffa eccetera e poi si dice inquadratura sul palazzo con Bruce affacciato si doveva tenere finito là io che cosa ho fatto per una questione narrativa che aiuta anche il lettore se ci farei caso c'è l'ombra di Bruce in alto e del palazzo che si proietta sul palazzo dove c'è la tipa che entra questo perché mi aiuta a esaltare il bianco delle finestre questa scelta di inquadratura e di luce di ombre ma nello stesso tempo mi mette lei al centro inquadrata al centro ma vedo Bruce che è in alto lo percepisco come lettore ma nello stesso tempo siccome lei scappa nella sceneggiatura l'ultima volta che tu la vedevi scappare lei che salta dalla finestra e non la vedo più perché Bruce poi si affacci e dice dove è andata a finire no? che ho fatto? ho riproposto quasi similare come inquadratura non tre quarti dall'alto se vogliamo dell'impostazione dei palazzi dove c'è Bruce qui sotto che è affacciato come incilangiatura ma riproiettato quindi utilizzando la stessa luce dell'immagine introduttiva con l'ombra di lei che sta correndo e capisco che è andata via cioè che comunque non è uno spirito che è una persona e poi divertirevi tanto quando vi capitano queste scene per dirvi di quotidianità dice Bruce che sta facendo colazione con la cameliere in un posto a Parigi ok perfetto io conoscendo di Bruce che sta attendo il caffè e come la disegno quindi quando per esempio Giuseppe nella prima lezione vi ha detto guardatemi intorno andate sugli autobus portatevi il taccuino schizzate il più possibile perché dovete imparare ad avere un bagaglio culturale visivo del quotidiano io qua ce l'ho inserito questa qua che bacia lui a sorpresa il bambino si sta diventando lanciare i fogli di carta del bar mentre la mamma si sta diventando questa affa fermate il papà che se la ride questo che sta chiamando il taxi che sta tutto a sinistra che porta la baguette il gatto che sta a spiare qualcosa che sta sul tavolo i piccioni che stanno per strada alcuni che volano questi che sta a parlare cioè ci stanno delle cose che vanno a correre cioè non è solo disegnare i due personaggi che interagiscono che sono i protagonisti ma anche il loro contorno devi dargli vita devi dargli un contesto a dove si sviluppa la scena altrimenti per esempio in questa scena c'è lei che se ne va lui che rimane in ombre e tutto quanto ci stanno i personaggi gli avventori che ho deciso di inserire che ci li stanno ma c'è questo capito che fa il versetto che è wow capito che bella tipa che sta a passare capito perché sono cose del quotidiano sono scelte narrative che vanno fatte queste le fa il disegnatore per esempio qui ritorna comunque la grande lezione di vita che abbiamo visto nella parte introduttiva con la sequenzialità del corpo per la parte sotto questo è parkour nella scena c'era scritto sequenza di bruce che salta per i terchi e corre e da come ha il quadro che fa e qua mi sono inventato questa cosa che figura moltiforme che salta ruotea e va quindi ci sono varie inquadrature varie cose dipende da dovete giocare cioè dovete pensare a un inserto prospettico e un inserto della figura parte integranti della narrazione stessa che non può essere scollegato altrimenti diventa freddo e soprattutto ostico al lettore finale la lettura la lettura deve essere fluida cioè si deve capire anche se non ci sono i dialoghi cioè quello che succede lo devi far capire anche se non ci fosse scritto nulla né un'anomatopea né un dialogo cioè l'immagine deve scorrere come se fosse un film deve muoversi e questo lo si ha dopo un'attenta attenzione analisi studio e comprensione del corpo e dello spazio del corpo di come si muove per esempio anche le dita delle mani le mani sono importanti come si spostano come si mettono per esempio questo è un work in progress che sto facendo la prossima tavola capito c'è l'ambiente ci saranno i poliziotti che sono entrati dentro loro dovevano scattare che i poliziotti sono entrati in un appartamento che stavano rapinando per esempio lui che sta fermo che è impaurito perché ha le prime armi lei che è più tattica capito sta a cucciare gli sta facendo il gesto gli sta a dire oh attendo che i due stanno lì sotto andiamo di qua per esempio la manina di lei col dito che indica verso quella parte aiuta il lettore vedete qui lei che se non ha cavolata però ti aiuta visivamente a capire che lei sta indicando che stanno andando verso quella parte si è detto si 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 vi ho dato tantissimo materiale se avete domande fatele eh ragazzi non abbiate non abbiate paura cosa fondamentale che vi dico quando disegnate un corpo in movimento non usate mai il cerchio il movimento è ellittico perché l'osso è inserito all'interno di una curva ma sopra l'osso ci sono i muscoli che fanno massa e se fanno massa bloccano alcuni movimenti l'esempio dell'inizio che vi ho fatto della clavicola non è non è tanto a caso perché se voi vi prendete lì di anatomia e guardate la struttura dell'inserzione della congiunzione tra clavicola e scapola no? facciamo una cosa scusate se no le parole diventano un po' un po' il disegnatore più veloce del mondo è più veloce di disegnare eh sì è una dialettica del trattenimento spero di non migliare allora facciamo così ok prendiamo photoshop prendiamo un po' tutte le stagioni no? prendiamo no no scusate dopo la date fossimo in una classe che una lavagna l'avevi già fatto però troppo intestino sono i tempi dell'online capito? eh no mi pare nuovo allora se dovessi semplificare la scapola ragazzi è molto semplice la scapola non è nient'altro che è un triangolino dove se lo divido in tre parti per un terzo faccio una linea che va a colpire questo spigolo e questa qua sarebbe la spina della scapola allora se voi adesso con il braccio con la mano vi scivolate dietro la vostra spalla sentite ancora del rigido se vi tastate proprio poco dietro sentite di duro non sentite il muscolo ok quella sarebbe questa qui che è la spina della scapola perché sopra si è da girare il trapezio e sotto per un solo terzo da qui il deltoide no? siete? il grande rotondo e poi nasce il precipite del braccio e qui c'è l'omero l'osso del braccio sapete? questo è diciamo è come stilizzandolo no? ok premesso questo perché vi ho citato la spina perché la spina cosa fa la spina della scapola la spina della scapola che ha la cuffia articolare e che si forma così se io la vado a tagliare e vista di taglio ho la cuffia e la scapola è questa però questa spina che io ho tagliato in realtà prosegue va avanti e viene nella zona anteriore tant'è che se vi toccate la spalla l'osso della spalla sentite come un gradino sentite un gradino sentite un gradino giate sulla vostra spalla e chilate verso dietro sentite come un gradino uno scalino ok? fa questo movimento la spina viene in avanti quasi ricordando un becco di corvo tant'è che è volgarmente chiamato becco di corvo perché questa giunzione della protuberanza della spina della scapola si collega con la clavicola quello che vi ho detto all'inizio quindi se dovessi disegnare un assonometrico nella scapola collegata con la clavicola sarebbe questo scalino qui che vi sentite se vi toccate e qui dentro si attacca l'osso dell'omero ok? vedete? sì sì ok perfetto e poi questa si attacca sullo sterno sul nostro manubrio che crea il manubrio con le due clavicole perché si chiama manubrio che le due clavicole con lo sterno ricorda proprio il manubrio di una bicicletta ok? quindi quando vi ho detto che il vero punto articolare del braccio è qui e non qui è appunto perché la scapola scivola è come se fosse una mano ficcata in una tasca che scivola non è attaccata non è attaccata alle costole perché se voi mettete la mano se voi adesso mettete la mano sotto l'ascella come quando vi dovreste abbracciare da soli no? mettete solo una mano su un altro braccio e alzate il braccio vi sentirete la punta della scapola venire in avanti perché slitta è come se fosse un coltello che spalma la nutella sul panino ok? perché vi sto facendo tutto questo preambolo molto lento? perché è importante capirla questa cosa perché questo movimento della struttura ossea dipende tutto il cambiamento muscolare del busto di quello che andremo a disegnare in determinati movimenti che scegliamo dare al personaggio perché e che succede? io ho quindi di profilo la cuffia dove entra la testa dell'omero ho la mia scapola che viene in avanti così e davanti ho la mia clavicola questo lo dovresti disegnare di profilo no? scusate ho sbagliato così pulisco un po' passano le ambulanze le finanze non so che stanno a fare ok ho perso quindi abbiamo scapola che è rossa adesso la faccio verde la cavicola così vedete meglio la gomma carne domani e la cavicola che sta qui vedete? mentre la cuffia che la faccio con una X e che la cavità dove entra la testa dell'omero si trova lì non so se riuscite a vedere tutti sì sì mi rendisco un po' di più forse così sì sì allora perfetto cosa accade adesso perché vi sto facendo tutto questo preambolo lento e forse anche un po' noioso perdonatemi posso sentire perché non sono molto bravo a parlare allora questa giuntura qui del becco di corvo più la cavicola che cosa vanno a fare? vanno a fare il nostro paraurti cioè qui sotto c'è non toccano l'articolazione dell'omero non la toccano quindi se io disegno di profilo la scapola e c'ho il becco di corvo così la testa dell'omero sta qui sotto e c'è un piccolo spazio e davanti ci sarà un pezzettino di clavicola che vedo se la vedo vista da dietro ok? questa è vista da dietro questa qua quindi che succede? se io alzo il braccio fino a quasi 90 gradi scusate se io prendo il mio personaggio lo scheletrino Nightmare Before Christmas no? che fate quando ho a a barili insomma lo schema ognuno poi c'è la propria non c'è che c'è il dogma sul corpo no? voglio muovere il braccio l'omero lo voglio mettere fino a questa altezza no? a 90 gradi diciamo con il corpo no? questo movimento semicircolato qui sopra io ora mia cavicola che fa il movimento a serpentina ok? che si attacca allo sterno si è dentro? si 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 ok questo qui è il mio omero ok l'omero lo voglio spostare qui a 90 gradi allora fino a questo movimento qui io non ho problemi non ho problemi quindi la struttura muscolare diciamo si comporta in maniera tranquilla e normale il problema sorge se io il braccio lo voglio spostare qui avvicinandola alla testa quindi da questa porzione qua in poi il movimento lo devo calcolare a seconda di quello che succede qui allora se io ho la clavicola davanti il becco di corvo che mi sovrasta sopra la testa della cuffia dell'omero mi crea un freno mi crea i paraurti dell'articolazione questo perché perché la natura ci ha voluto difendere dal fatto che se tu vai a sfondare una porta e non c'avessi questa cuffia che ti ripara l'omero tu avresti il braccio che ti senesce l'omero si uscirebbe dalla scapola botta a botta in più collerebbe tutto c'è proprio come per le automobili le riprese delle automobili che c'è il paracopertone c'è la raniera che fa questa curva ok che ripara la gomma ok stessa funzionalità ha il becco di corvo insieme alla clavicola ok quindi questo che cosa succede che comporta che quando dobbiamo disegnare un braccio per andare verso l'alto io che cosa è che devo spostare se devo superare i 90 gradi da qui a qui devo calcolare che mi si sposta sia la clavicola e la scapola perché gli fanno la fermo quindi la forza del muscolo del toide che alza il braccio insieme alla trazione del trapezio mi sposta tutta la struttura ossea non solo dell'omero perché sto alzando l'omero ma mi alza anche la clavicola e la scapola ok quindi la trazione muscolare farà perno sulla gintura della clavicola che è il vero punto articolare di DASC è qui e quindi devo calcolare prima che si sposta la clavicola che va verso il mento quindi calcolare sotto dove sta l'omero e poi sposto il braccio ai suoi 90 gradi in maniera di ottenere un movimento anatomico fluido in più stilizzarlo geometricamente questa è una tecnica che ho detto io che non è un dogma che faccio io quindi prendete la buona pinza che poi ognuno può prendere la propria tecnica poi ascoltando più voci è bello perché ognuno poi fa proprie determinate cose questa cosa ma sono diciamo un po' fissato per le proiezioni ortogranali geometriche a scuola eccetera questa fissa che lo ammetto sono un aspirante architetto mancato ma questo lo faccio anch'io quando faccio i pupazzetti cioè anche non soltanto sull'anatomia realistica ma anche sul 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 peanuts no? esatto sul peanuts esatto perfetto esatto ok ci abbiamo tutti questi punti articolari perché io ho deciso di adottare questa per me questa questa cosa di geometrizzare la figura perché? perché nel momento in cui io vado ad alzarmi allora decido di alzare la clavicola no? come vi ho detto con un movimento semicircolare alzo la clavicola che il punto massimo è vicino alla mascella oltre non può andare no? e mi rimetto le sue grandezze e mi rivado a ridisegnare la scapola ci siamo vedete? la punta mi esce fuori dalla gabbia toracica vedete? sì sì ok allora questo è per disegnare i supereroi non le persone normali ok da qui vi alzo l'omero ci siamo? a questo punto qui se io dovessi disegnare il dorsale sapete che il dorsale qual è il dorsale no? il muscolo del dorsale no? qui c'è il dentato il pettorale il pettorale il bicipite e qui c'è il dorsale il muscolo più grande del corpo no? ci siamo? avete mai visto i culturisti quando allargano e alzano le braccia che si gonfiano? troppo sì sì ok allora il dorsale quanto mi si allarga per disegnarlo? ok io facendo questa cosa mia cioè di geometrizzare la scapola e quindi avere un punto esterno fuori mi dà di quanto mi si allarga il dorsale e poi mi si ristringe per sapere di come mi si è allargato mentre se quando sto basso ce l'ho stretto così il dorsale mi divento a questo più grande si stira e si allarga contate una cosa che quando il braccio si alza il dorsale non è in contrazione ma è in stiramento ci siete? sì ok perché si gonfia allora perché appunto anatomicamente la scapola che è chiusa veramente come in una tasca nel senso la scapola che è la forma triangolare vista da dietro così col becco di corvo è quello che va avanti e quella che è nella testa per un terzo la sua punta sotto e per un terzo qui che va verso un terzo dell'omero è nascosta appunto dalla fascia in questo si parla di muscoli della schiena dal muscolo del dorsale ok quindi immaginate di avere la gabbia toracica la linea della scapola e poi il muscolo del dorsale che lo avvolge per la punta un terzo ok quindi diventa come una una tasca il dorsale diventa una tasca e e la scapola diventa la mano ficcata nella tasca adesso se voi provate a ficcarvi la mano nella tasca e il pollice vuole e provate a tendere piegare la mano verso il vostro pube no a tirare la tasca verso il vostro pube sentite il jeans stirarsi non contrarsi lo so che l'esempio è stato veramente chiedo scusa però per farvi capire come il tessuto si stira no la mano della pasta e se questa operazione fa la scapola che diventa il coltello e il dorsale diventa la nutella spalmata sul panino perciò si ingrossa ma quel l'ingrandimento è dovuto allo schiacciamento della massa muscolare che la scapola dà portandolo in avanti quindi non è in contrazione perché la funzionalità del dorsale quella principale attaccandosi proprio qui nella parte posteriore nella parte posteriore di un terzo dell'omero è quella di portare il braccio all'indietro è quello che si usa maggiormente quando i vecchietti stanno con le braccia incrociate dietro a guardare i cantieri in quel momento stanno usando i loro dorsali ok siete svenuti? si ragazzi ogni tanto dite qualcosa perché quando uno condivide lo schermo non vi vede capito quindi date dei segnali di vita ragazzi ok è tutto molto chiaro è chiaro questa cosa del dorsale come funziona scusate è un esempio un po' troppo strano quello della tasca chiedo scusa però per farvi capire come il jeans si stirava rispetto al fatto della contrazione quindi quando vi dico di studiare abbondantemente la struttura cioè di 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 capire punti articolari cioè collo schiena cavicole con la scapola l'omero un radio le mani vabbè poi non parliamo delle mani le maniche le maniche la schiena per esempio la schiena la schiena è mobile? sì ma di quanto la posso muovere io la schiena? allora se io devo fare una torsione laterale pissa senza inarcarmi il punto massimo è la spalla cioè che voglio dire prendete la linea della vostra schiena da qui all'attaccatura dell'omero e vado in questa maniera poi con un movimento semi ellittico a compasso mi proietto le proiezioni e mi sposto la gabbia toracica alla testa così questo è il massimo che può fare la gabbia toracica c'era la colonna vertebrale scusate ok è il massimo dove che vi spezzate ok se sto di profilo invece sappiamo tutti che la schiena fa il movimento a serpentina si si ok allora in avanti cosa succede qui facciamo contando dalla testa alla fine del bacino una semicirconferenza dalla fine del collo una semicirconferenza troviamo un punto questo punto ci dà il massimo curvatura in avanti ok nella nostra schiena ci state? dice è possibile che così poca io ho visto gente curvarsi di più e no ragazzi la curvatura viene amplificata dai temori che si avvicinano tipo l'uomo ragno che sta appollaiato ok perché ricordate che le gambe aiutano e amplificano anche gli stessi contorsionisti cioè è anche un effetto ottico oltre vabbè i contorsionisti del circo hanno anche delle loro diciamo strutture osse particolari però per dirvi quando vedete la donna no contorsionista che sta così con le gambe con i piedi che vengono in avanti no? ci siete? sì ok in quel caso l'amplificazione della torsione non è data dalla curvatura della schiena che loro ce l'hanno a prescindere da un allenamento molto violenta soprattutto nella zona lombare ma quella è dettata dalla curvatura l'effetto ottico è dato sia dalla curvatura della schiena e l'indietro che questo vi farò vedere di quant'è ma soprattutto è amplificata da i femori dalle gambe che vengono tirate indietro e dalle gambe dei piedi che scendono giù che crono questo A la gintura massima a cui fa brutto perché è al massimo e all'apice della struttura ma l'effetto di curvatura di spezzatura non è tanto la curvatura della schiena ma il fatto che lei stia tirando indietro le gambe come quando uno tira indietro la gamba per correre ok? che poi abbia una flessibilità muscolare tipicamente diversa però l'effetto ottico della struttura è quella il corpo è quando possa essere molto allora poi contando il fatto che come sapete le vertebre hanno dietro la spina no? abbiamo la spina come qua se esci ok questa perché? perché serve a difendere il midollo osseo che si trova al suo interno e se fosse senza niente uno si piega come gli pare si vinta tutto invece questo è dei blocchi quando riguarda la parte anteriore invece viene bloccato dalle costole questo movimento di proiezione in avanti cosa accade? per sapere quante volte posso mentre per portarla in avanti io ho fatto questo movimento con una circonferenza per la testa dietro che succede? dal bacino a cambio colore scusate dal bacino alla fine della testa faccio una semicirconferenza poi faccio una testa due testi ok? alla terza testa mi fermo e inizio a costruire questo è il massimo inarcazione possibile del nostro personaggio nella realtà con la schiena ragazzi questo vale per la figura umana diciamo col canone realissimo ma vale pure per il pupazzetto ma sempre per tutto cioè non è che cambia vale per tutto per l'animazione vale per il fumetto per l'illustruzione vale anche per Bart Simpson non è che cambia assolutamente assolutamente anche Topolino ha la sua struttura cioè anzi il Topolino forse anzi ricordate una cosa che più un disegno è semplice e più c'è un lavoro di ricerca di questo tipo nel senso che se io dovessi disegnare dopo di una cosa che non ho mai fatto in via mia spero che non le voglia si vedrà poi sta roba no ci sono già quelli della Walt Disney che lo fanno quindi ha uno studio di struttura di forme che se non le sai gestire e non sai dove vanno cioè tu non non potresti mai sapere dove va il naso le orecchie questa è struttura e gabbia l'equivalente dello scheletrino normale umano quello umano perché ci risulta più semplice di segnare rispetto a Topolino perché ha più punti di riferimento di intreccio a scalata quella cosa che vi dicevo un terzo questo si alza perché abbiamo dei punti di riferimento come quando costruiamo un naso che creiamo i piani ortogonali per capire se più a punta no se più a maldi se più in giù aquilino qua no qua c'hai circunferenza strutturale sferica se non sai i punti quali sono io posso disegnare Topolino perché il realismo ci permette di avere più punti di riferimento per dirti un occhio capito c'è faccio l'occhio dall'occhio so che c'è un'insignatura la cavità da qui so che mi posso collegare e fare attaccatura nel naso per so occhio come distanza per fare l'altro occhio è tutto un po' accaduta come ragionamento scendo giù divido la pallotta nel naso la narice capito è molto più strutturato con dei punti con dei canoni che mi scendono giù a pioggia mi danno dei punti di riferimento con la sintesi no e muovere una sintesi senza conoscere la struttura articolare come c'è la mobilità quant'è la mobilità della schiena come si muove il bacino o la linea delle spalle di nuovo in cossa perché per esempio quando corri il tuo bacino non sta in asse parallelo al pavimento e si muovono solo le spalle ma si muove anche il bacino c'è una torsione del corpo perché devi riequilibrare però devi prendere e riequilibrare dall'altra parte come quando tirano avanti il braccio avanti e il braccio indietro quindi bisogna studiare come dice Antonello è fondamentale i punti articolari vada non è importante che se non vi ricordate il nome del tendine del bicidire che c'è l'insezione dentro la rubbia della scapola l'importante è capire come funziona perché se non capisci come funziona è inutile che mi sai dire il nome del tendine se poi non sai cosa farci per dirvi una cosa molto semplice che si usa che io uso dico io perché ti ripeto scusa Antonello se dico anche io perché hanno le proprie le proprie tecniche quindi e certo poi ognuno poi elabora io per esempio minimizzo il pettorale in una sorta di trapezio irregolare no? dopo di che c'è la gabbia toracica che ovviamente ha bozzato prima poi Carmine quando puoi c'è un ragazzo che vuole farti una domanda eh Radostin ok mi spiego questa cosa del dentato come lo trovo io insomma poi rispondiamo subito qui l'inserzione è un terzo dell'omero che succede? vedete questa inclinazione che io do al pettorale nella mia costruzione questa che è la parte che è più evidente nel disegno quando si disegna un corpo che faccio? ma proseguo dove tocca la gabbia toracica mi creerà una fettuccina trapezio edale che sarebbero i famosi addominali alti che succede? poi questo spazio della gabbia toracica lo divido in tre fatti uno due tre seguendo questa inclinazione che mi dà la linea del dentato di come segue sulla gabbia toracica poi al centro divido con le sfere per farmi i miei addominali e poi qui c'è l'obliquo che scende e poi qui il dorsale cosa succede? quando io vado ad alzare il braccio e quindi mi cambia la forma del trapezio del pettorale perdonatemi che non sarà più un trapezio ma un pentagono ma un capezzo irregolare che succede? mi cambia anche il dentale perché comunque tutti i muscoli sono correlati soprattutto quelli del busto a seconda dei movimenti che fanno quindi hanno una modifica perché si innalta la schiena che il dentato ha una variazione la variazione come la trovo io? seguendo sempre l'inclinazione di questo asse che lo ripoglietto sotto quindi invece di andare con l'inclinazione che avevo una struttura precedente del dentato riutilizzo la stessa inclinazione che ho dato in questa struttura di stesura e ridisegno il dentato perché il dentato tende a seguire il movimento e lo stiramento o la contrattura che dà il pettorale ok ci siamo interrompo e arrivo al posto della domanda se ci sono domande Radustin prego ah sì buongiorno volevo chiedere siccome noi per esempio per questo esame faremo tipo un fumetto comunque varie illustrazioni dello stesso personaggio volevo chiedere se c'era tipo un trucco per disegnare sempre lo stesso personaggio però da prospettive diverse che può essere dal basso o dall'alto eh la struttura dipende tutto dalla struttura io ero un esperto proprio con la madre l'ho visto che ci sono anche disegnano da prospettive varie quindi dall'alto basso qual è una questione di tecnica acquisita nel tempo e che devi affinare tutto con il disegno lì di subentra proprio il supporto fisico il rapporto te è carta o digitale è quello che usi meglio ma lo devi affrontare tu ogni figura va rapportata comunque in un contesto prospettico come ho detto all'inizio e una volta che tu hai deciso non so hai il naso al primino usa anche riferimenti fotografici non è che lo devi imparare a memoria senza riferimenti infatti delle foto vedi anche come funziona il tuo naso visto dall'alto dal basso perché comunque ripeto non siamo dei computers che hanno un bagaglio visivo database come nei cartoni nati adesso ci tengo un cartoninato anche qui ci dà poi sempre la mia età a ricempo di marre capito che ci aveva gli schemi e poi si trasformava in quello che serviva in quel momento devi ovviamente osservare tanto è l'impostazione della struttura del corpo ma inserita nello spazio e integrata con lo spazio circostante un consiglio che vi do quando andrete a fare le pagine disegnate prima gli ambienti prima del personaggio mai mai il personaggio prima mai e disegnatevi la griglia o chiamata anche volgarmente scacchiera del pavimento partite dalla piastrella dove ponce il personaggio altrimenti rischiate di avere il personaggio o che vola o che sta cadendo nelle sabbie mobili non poggia nello spazio che voi avete creato quindi create prima lo spazio questo è il trucchetto che ti do soprattutto per le inquadrature all'altro è dal basso così si riesce a capire meglio anche come poterlo integrare spero di essere stato esaustivo perfetto grazie mille è proprio quello grazie molto sopra grazie poi costruirsi dei moduli come diceva lui con i punti nodali per poter muovere il personaggio così ancora di più se fate un personaggio che non è realistico creare dei moduli dei moduli che poi li girate guardate che spesso si fa proprio tridimensionale c'è una bellissima mostra un paio di anni fa se non vado errato al palazzo dell'esposizione sui personaggi della Pixar fatti ma veramente fatti con la creta cioè anche Richard Corbin disegnato dei fumetti dell'epoca lui faceva prima le sculture che poi scompasso credo quest'anno sì Richard Corbin faceva le sculture dei propri personaggi in maniera che quando dovrà mettere le luci o guardarlo dall'alto ovvero il suo personaggio fatto in scultura certo le sculturine è giusto quello che dice Carmine nel senso che dovete averla nella mente la cosa perché ricalcare la fotografia guardate il disegno non è il ricalco di una fotografia ci sono alcune cose nel disegno vengono reinterpretate se andate pedissequamente a ricalcare una fotografia otterrete una brutta fotografia otterrete più fredda più fredda della foto stessa che avete fatto il discorso è questo un esercizio che secondo me dovete fare al di là dell'esame che dovete fare a tavola che i tempi sono stretti perché ovviamente prima volta io ho dato il classico turnaround per fare il personaggio è giusto che ci siano dei tempi prendetevi delle riviste di danza o di fitness posso anche vedere corti androcomorti pompati fa brutto però non è che deve disegnare quelli non è che lo dovete disegnare con un pennarello prendete e fate i cerchietti dentro la spalla dentro i gomiti e iniziate a ricostruirvi la strutturina su quella foto prendete fotografie anche di persone che saltano e ricavate con un'imposta o l'evidenziatore a mano quello che faccio il light baby for christmas le lignette il cerchietto le lignie della struttura allora questo è grande così questo è stato il braccetto anche se non è non è in un contesto prospettico proprio inizia a far capire come la struttura quante capacità di movimento ha fondamentale segnatevi anche le scapole perché quello è fondamentale del movimento delle scapole perché le scapole per la schiena sono quelle che cambiano completamente tutte le masse e i volumi della schiena ma soprattutto anche il movimento articolare della clavicola con la scapola e della spalla in alto visto prima quando vi ho fatto vedere il dentato che cambia a seconda del movimento del pettorale è quello che cambia a tutti i volumi delle luci a seconda poi delle luci che mettete capire che ogni singolo movimento comporta una perfezione di sovrapposizione o di distensione dei volumi dei luci va bene beh insomma ti abbiamo torturato per tre ore e mezzo Carmine spero che sia arrivato un po' chiaro spero la speranza è questa ragazzi ci sono domande c'è qualcosa qualche curiosità che volete chiedere vogliamo intanto vogliamo lasciare libero Carmine dopo tre ore che ci ha spiegato allora siamo a favore 6 ho abituato più forti da 6 ore vabbè assolutamente sì una volta è andato è così una cosa volevo come dire riflettere con te una cosa che è cambiata che oggi non si usa più io adesso sto ho ritrovato dei vecchi fumetti degli anni 70 nella mia casa terremotata e sto ricollezionando i vecchi fumetti Capitan Michi con la comandante Marche che io ho amato che erano i fumetti della mia infanzia e mi ricordo che per far capire la relazione fra i personaggi la Dardo queste case editrici qua facevano se due erano rifinanzati avevano la stessa faccia tipo che so Mark il comandante Mark e la fidanzata Betty avevano la stessa faccia cambiavano solo i capelli oppure che so Capitan Michi e la fidanzata che non mi ricordo come si chiamava avevano la stessa faccia c'era proprio questa grammatica semplice nel nel fumetto di quegli anni sì che era semplice per cui attraverso il Soma tu facevi capire le relazioni quindi stabilivi un tipo di faccia un tipo di si scusa ancora prima era proprio palese era mi ricordo sì sono dei volti standard ovviamente prima era un prodotto più palese ma per esempio anche per differenziare un cattivo da un buono non so quando di voi avrebbero visto Unbreakable il film avete visto? ok guardatevi Unbreakable perché parla di supereroi di Shaman una chiave tutta sua dove c'è Samuel Jackson che sarebbe poi non faccio spoiler la storia comunque tra i collezionisti di tavoli originali e c'è una parte del film dove lui spiega perché il buono il mascellone rassicurante quindi la forza le linee morbide mentre il cattivo è spigoloso deve essere acuto deve essere il classico era malefica malefica era triangolare esatto triangolare perché la forma acuta incute timore pericolo pugnale rappresenta il pugnale ok ti ricordi zio Tobia che usciva a medaglia di 70 che aveva questa ma so tu che faceva la storia dell'horror questi capelli un po' utili e diradali la voce la tua ricorda un po' quella di zio Tobia sto scherzando sto scherzando mi fai cari cari zombetti miei posso impazzire oggi cari zombetti lì è uguale faccia meglio vedere zio Tobia se no loro non sanno neanche di cosa stiamo molto presto ragazzi è una marionetta ha preso dei commenti di clipi disegnati da bernie wrightson una cosa che vi consiglio un attore bellissimo bravissimo che è anche molto vicino all'illustrazione è bernie wrightson lui ha disegnato frankenstein ragazzi è una roba che sembra incisione all'odore un lavoro all'odore fatto un tocchino e a mano niente digitale che è citò tra gli anni 70 e gli anni 80 allora le spiacevoli noti di zio Tobia te lo ricordi? comunque sono grandissimi film grandi serie di horror e nasce proprio da una rivista per acriti americana lo vedi? si eccolo qua eh però ti stai a salvare non hai messo il video non sentire se la voce era uguale però potresti a salvare scusate quest'attimo vogliarvi con il vacanziero allora vi cerchiamo il video così glielo facciamo sentire la sigla tv di youtube vediamo ci sta proprio cari zombetti neri di cercare dobbiamo sentire la voce che è uguale alla tua stavolta l'ho messo in castillo all'angolo ma un breakball è in pratica la trilogia dove c'è anche glass si esatto si la vista glass che sarebbe poi Samuel Jackson collezionista di tavole originali allora stasì smottiviso c'è la scena il breakball che spiega proprio appunto il canone del superero che deve essere rassicurante questo macellone a confronto del cattivo e c'è proprio una tecnica l'obiettivo che ad un certo punto fa va bene compro questa pagina dopo che gli ha fatto tutta la spiegazione gli fa mentre sta per impacchettare il tipo gli fa va bene Bernie sarà contento e fa chi è Bernie è mio figlio quando c'è la sua figlia ma c'è 4 anni sa che io la tavola la tengo qui lei non ha capito niente queste arti non è un pochino da regalare a un bambino quando tu uscire fuori non gliela vende la pagina allora facciamogli vedere questo zio Toglia che aveva un carattere particolare perché era proprio una specie di morto era tutto spigoloso con questi capelli fatti in questa maniera quindi grandissimi erano devo dire i fumetti degli anni 50 60 che facevano questo ghigno Capitan Miki il grande black degli ricordi avevano proprio questa esasperazione del carattere poi sono portati avanti negli anni perché erano poi come dire molto didascallici poi no Carmine erano per un pubblico semplice quindi dovevi che non c'era diciamo questa massificazione diciamo di immagini non eravamo bombardati dall'immaginario quindi c'era questa decodificazione semplice che ti proiettava già in una dimensione fantastica oggi invece con soprattutto grazie ai giapponesi che comunque hanno creato questa vicinanza al realismo tecnicamente anche solo con la tecnologia stessa dello meca e tu pensi Gundam tu dici vabbè pensi a Gundam pensi al cartone animato allora vi invito a trovare una serie un po' difficile a trovare su youtube perché è un po' rara è Gundam 0083 episodio credo che sia il nono o l'ottavo episodio allora una faccia molto semplice della stendola un po' veloce nella storia ci stanno due Gundam uno che è settato per il combattimento a terra e uno settato per il combattimento nello spazio succede che la fazione nemica cattura prende questo robot che combatte nello spazio quindi il pilota che guida questo Gundam da terra dovrà scontrarsi con l'altro Gundam e il primo scontro avviene nello spazio che non è il settaggio del primo Gundam che è settato per combattere a terra quindi il robot viene distrutto perde una gamba c'è la base spaziale dove deve entrare tipo una porta aerei deve entrare questo robot quindi hanno studiato pure l'inerzia della forza gravità interna della base bianca dove deve entrare il Gundam e il Gundam che sta invece nel vuoto sospeso però che succede che il robot è settato su una caviglia per sopportare il peso di mezzo corpo non del corpo intero perché non ha più l'altra caviglia perché ha perso la gamba nel momento in cui poggia c'è proprio gli hanno dedicato una sequenza di un minuto che io ho sbombinato 50 milioni di volte perché appena poggia il piede si scardina la caviglia del robot facendo di vedere tutti gli ingranaggi di come funziona l'articolazione della caviglia del robot sospesi nell'aria e quindi hanno innescato questo realismo che però immaginando un futuro quindi anche il caratter design è andato ad avvicinare un realismo però rimanendo nel vero guarda per esempio il Joker il Joker ha un ghigno magnifico ricorda un po' quello di Geotibia però è molto più meno sintetico rispetto anche se Geotibia era risegnato da Dio da Bernie Leidson sulle riviste va bene allora io come dire concluderei la lezione ufficiale adesso così interrompiamo la registrazione rimanete prendiamoci i saluti di Carmine e i saluti vostri a Carmine ragazzi grazie di tutto grazie della pazienza soprattutto grazie a lei 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 per tutto quello che volete fare crepi grazie sempre grazie 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 a lei grazie a lei